Walter Vincichè, con il nuovo incarico cosa cambia per la ginnastica prettamente locale? In realtà locale niente, nel senso che in quell'età di direttore tecnico regionale prima mi sono occupato in questi 12 anni dei tecnici, della formazione dei tecnici, dei giudici, formazione dei giudici e dei programmi regionali. Questa è la parte che competeva il direttore. Adesso da consigliere regionale mi occupo di dare l'indirizzo politico per il lavoro da fare in Sicilia. E quindi per ciò che riguarda gli aggiornamenti nella nostra città e tutto ciò che è di formazione comunque rimane perché comunque c'è sempre questo legame intimo con la mia città. L'unica cosa che in qualche modo cambia è che probabilmente non sarò nella parte proprio operativa per quanto riguarda quella tecnica ma sono comunque sempre nel mondo della ginnastica. E nella sede regionale della ginnastica a Catania lei porterà le attività che sono maturate nel tempo a Gela perché a Gela realmente avete ottenuto straordinari successi. In realtà ne abbiamo fatti diverse di manifestazioni, adesso già ne ho qualcuno in programma, non anticipiamo nulla. A Gela comunque rimarrà un punto fermo su cui fare delle attività regionali per il movimento della ginnastica siciliana. Cosa potresti organizzare a Gela? Un evento regionale, interregionale. Guardando un po' più avanti, strisando l'occhio a qualcosa di più grosso, ho un evento internazionale e una delle proposte che mi hanno fatto già in Federazione Nazionale era quello di organizzare la Golden Age qui a Gela. Si parla di ginnastica, si parla di cosiddetto sport minore, ma non è più in effetti così? Direi di no, anche perché la Federazione Ginnastica è nata nel 1869 e da quell'anno ad oggi ne ha di tesserati tantissimi. Praticamente se non ricordo male, prima c'è il calcio e poi c'è la ginnastica. Solo aspettava questo nuovo incarico? Diciamo che è stato, non ci pensavo in realtà, però una richiesta dalle varie associazioni e questo colgo l'occasione di poter ringraziare tutte le società siciliane che mi hanno votato e il presidente Euronio Bonfiglio che è il capo di questo commettatore regionale dove insieme agli altri sette componenti porteremo avanti la ginnastica.